Sono 60 le società di capitali con sede legale in Campania e insegnite a Napoli dell'alta onorificenza di bilanci in occasione del 42esimo evento del Premio Industria Felix, quinta edizione campana. 34 per la provincia di Napoli, 10 per quella di Salerno, 8 per quella di Avellino, 5 per Caserta e 3 per Benevento. Presso l'auditorium di Città della Scienza sono state premiate le aziende scelte dal Comitato Scientifico sulla base di un algoritmo di competitività relativo al conto economico, all'affidabilità finanziaria indicata dal Servet Group's Core Impact e da una media a detti non inferiore all'anno precedente. Gianluca De Margheriti, socio Grant Thornton Consultants e componente del Comitato Scientifico di Industria Felix. Grant Thornton è un partner, uno sponsor storico di Industria Felix in tutte le tappe nazionali. Ovviamente quando si tratta di Sud e quindi in questo momento particolare di rilancio del Sud, nonostante la nostra dimensione internazionale di Grant Thornton presente in 130 paesi e quindi con delle esperienze che possiamo portare al servizio delle nostre aziende, la nostra vicinanza al territorio e quindi alle singole realtà locali è estremamente importante. Da qui la nostra presenza anche in questa tappa di Napoli. Secondo De Margheriti, anche il forum Verso Sud, che si è svolto recentemente a Sorrento, ha offerto buoni spunti per parlare di Sud e di piano nazionale ripresa e resilienza. Il PNR può costituire sicuramente un elemento di accelerazione del nostro territorio meridionale, di valorizzazione di quelle che sono le eccellenze del nostro Sud e che oggi sono rappresentate in circa 60 aziende che hanno qui partecipato e che insieme ad altri elementi di supporto finanziario, quindi la trazione anche di capitali esteri che si vanno ad innestare sulla base del PNRR possono costituire veramente una fonte di accelerazione dell'economia del Sud.